Ciao amici di Enjoy Television, io sono Lele, siamo a Gualtieri in provincia di Reggio Emilia, è Halloween, la notte delle streghe e questa sera la serata è Plasmophobia, un evento da non perdere, seguiteci! Massimo, questo eventone galattico qui a Gualtieri, tanti DJ, tante sale, tanta musica, si è iniziato prestissimo, è iniziato alle 16 e c'è da dire in grande successo perché già alle 19 eravamo più di 2000 persone, adesso potete vedere siamo quasi a 4000 e sono solo le 10 di sera, stiamo aspettando l'arrivo di tutti gli altri DJ e l'apertura delle altre sale. Plasmophobia esiste già da tanti anni, sono quasi 15? Sì, anzi 15, ne abbiamo fatti quest'anno. 15 anni, eventi futuri? Rifaremo l'evento il 24 di aprile, ormai ci sarà una cadenza semestrale, ogni 6 mesi realizzeremo l'evento perché diciamo che vogliamo dedicare lì il tempo giusto per fare un evento di questo calibro. Allora, cosa si deve aspettare, la gente, i clienti che vengono al Plasmophobia? Diciamo che Plasmophobia nasce su quello che era la tendenza degli anni 90, però con un'evoluzione nuova negli anni 2 del 2010, si punta tantissimo sulle scenografie, sull'animazione, spettacoli laser, video, oltre che ovviamente un line up a livello artistico molto importante. Parliamo un po' degli ospiti di questa sera, allora io so di mio la sala house perché ci lavoro, mentre parliamo di questa sala centrale. Sì, la pista centrale come ho detto è partita alle 16 in diretta nazionale su M2O con Provenzano e i Promisley, dopodiché ha suonato Gabri Ponte con Jeffrey J, Molella di M2O, adesso Alex Nociere e Lori Witt, dopodiché ci sarà uno spettacolo di Roland Brandt, Gianni Parini, Killer Faber e Ginger, la voce Roberto Francesco. Amici di Angel Television, sono qui con la voce del Plasmophobia, Roberto Francesconi, ciao Roberto. Ciao belli, come state? Allora Roberto, voce del Plasmophobia, una festa esagerata direi, cosa ci aspetta questa sera? Guarda, è una cosa esagerata perché è cominciata già dal pomeriggio, così abbiamo avuto i ragazzi più giovani e andremo avanti penso fino a mezzogiorno. Loro dicono alle 5 ma non si va a casa stavolta. Per te è un ritorno qui a Gualtieri, giusto? Saranno una dozzina di anni che non ne vediamo. Quindi prossimamente invece tornerà ad aprire il Plasmophobia, giusto? Sarai qui ancora? Spero anche prima perché quello di Plasmophobia si parla nel 2011, il prossimo. Speriamo di fare qualcos'altro prima. Amici di Enjoy, stiamo sempre qui al Plasmophobia, a Halloween 31 ottobre, sono in compagnia di Ginger. Ciao Ginger. Ciao, ciao Enjoy, ciao Enjoy. Allora, cosa ci aspetta questa sera? Ma penso delirio, il delirio proprio allo stato puro. Una bellissima serata, un sacco di gente, tanti generi musicali, è una bella, una bella convention di... Parlando con te prima, ci siamo scambiati due o tre opinioni e parlavamo di questo Plasmophobia quando era qui 15 anni fa. Cos'è cambiato in questi anni? Ma innanzitutto la gente, vabbè, no, però, vabbè, si evolve come tutte le cose. L'ho ritrovato ancora a Plasmophobia, quindi alla grande, cioè una bella serata proprio. E noi, niente, andiamo di là, aspettiamo di vederti all'opera e facciamo un saluto agli amici di Enjoy. Un saluto da Ginger ai ragazzi di Enjoy Television. Il comandante. Il comandante.